Perché io poi rifletto sulle cose, no? Quindi io poi sono una persona che per quanto possa avere lo sfogo... Ah beh, scusa comunque, prima che parti... Scusa. Sì, però io ho bisogno di parlare con te. Cioè io ho bisogno, in questo momento ho proprio bisogno di esternare tutto quello che ho perché come tu stai facendo il tuo percorso e stai sotto stress noi siamo a vostra disposizione, con il cuore in mano e io ho bisogno di una cosa alla base, che è il rispetto. In questo momento io sento che da parte tua, da parte tua nei miei confronti, quello è venuto a mancare. Entro in sala, non sei mai contento, è tutto brutto quello che fai. Poi passiamo alla coreografia, non ti piacciono le musiche. E poi passiamo ai passi e c'è il problema sui passi. Da parte tua non c'è mai un sorriso e non c'è mai un approccio positivo a quello che si fa. Beh, hai convinto sulle cose. Il fatto che io devo stare lì a convincerti oppure a parlare con un ragazzino che sta sempre a guardarsi e a mettersi a posto senza ascoltare quello che dico mi fa girare le scatole.